è un tesoro veramente grazie così mi vizi grazie tesoro credo cuoricione credo cuoricione cuoricione vedo a te non ti va oggi di aiutarmi in qualche modo do you want support me today? no grazie grazie mille grazie why is it winter? come ti chiami su instagram? se vuoi mandamelo su telegram che ti seguo perché sei mandami anche messaggio magari di come ti chiami su instagram se ti fa piacere che se ti seguo sei sei uno dei miei donatori migliori lascia keep calm edu good it's good if you want se tu puoi if you want mi mandi qualcosa se no tranquillo a questo punto siccome risponda a cosa vediamo a questo punto è un tesoro veramente poi rispondimi su telegram se ti va e ti fa piacere magari che ti seguo su instagram te lo scrivo anche lì doni ciao 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 Grazie a tutti Comunque ti ho ricambiato Ti ho seguito su Instagram Tranquillo Edun Grazie a tutti Grazie Grazie San tesoro Grazie a tutti Ciao Salvo Tutto bene comunque Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti